Far fronte comune per scongiurare gli assembramenti ma soprattutto per allontanare gli appetiti della criminalità organizzata dalle attività commerciali sane ma in difficoltà per la pandemia. Questi i principali temi dell'incontro in prefettura Napoli tra i rappresentanti delle associazioni del commercio e della ristorazione, il prefetto Marco Valentini, il questore Alessandro Giuliano, il comandante della polizia municipale Ciro Esposito e l'assessore comunale Rosaria Galiero.